Controlli in atto, qui siamo lungo la regionale 71, peraltro una delle strade più transitate. Comandante, com'è la situazione? La situazione è la normalità, capendo anche che le persone sono in netta difficoltà perché si ritrovano per la seconda Pasqua a dover rispettare le numerose regole e i controlli da parte purtroppo delle forze di polizia che si devono attenere alle verifiche sui vari spostamenti, però diciamo che noi siamo qui già da più di un'ora ma le persone sono molto attente e scrupolose. I vostri controlli sono per lo più in questo modo, controllare per strada gli spostamenti, questo dobbiamo precisarlo? Sì esatto, noi in questi tre giorni, tre, quattro, cinque, saremo soprattutto a verificare gli spostamenti e il rispetto delle norme.